Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il venuto qui al canale, siamo su fammissimi di Tor 22 nella mappa dei valli di Old Farm, allora sto continuando con le lavorazioni e ci sono stati degli vari aggiornamenti, come potete vedere questa lama l'ho aggiornata diciamo dal modab, non so perché ha preso questi colori comunque non è questa soltanto questa la cosa che si è cambiata, purtroppo ogni volta che io vado ad aggiornare qualcosa c'è sempre che qualche produzione qualcosa che va ad ingrippare diciamo in questo caso è stata la serra grande che ho dovuto sostituire come vedete a zero, ho venduto tutta la serra e diciamo che ricomprandola vendendo, insomma come sono stati fuori a 36 mila euro, vabbè niente di che, vediamo un attimo, ok questo dovrebbe arrangiarsi in teoria, vedete avevo portato anche qua i pallet però nulla da fare per il momento passiamo tutto qua poi vediamo eccola qua, vediamo che succede, come sembra bene continuare con il gameplay, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando è un attimo, come sempre non vi costa nulla, parte un paio di secondi del vostro tempo e vi ringrazio, commentate come sempre basta anche un semplice saluto, un ciao, un come stai, va benissimo, l'importante è che lasciate giù un feedback per oltre per i video che ci sta benissimo ma anche per diciamo per youtube che non sempre è a vantaggio dei piccoli creator diciamo, ecco qua, ecco così magari riusciamo a spuntarla un po' di più, meglio così, sì, meglio così, ok, molto bene, condividete e vi ringrazio detto ciò, volevo capire un attimo, allora con il premia non ci siamo proprio perché qua c'è colza e lei ha tutt'altro per cui devo andare a scaricare, andare a scaricare da qualche parte, allora rieccoci qua, dovrò un attimo poi spostarlo perché tanto lo lasciamo scaricare, per il resto i campi vedo che stanno anche bene sia quelli ad erba, sì, che quelli classici, mi resta il 61 e il 92 da finire, il resto è tutto in crescita, non credo ci siano semine, no, finisco solo quella trebbiatura, queste trebbiature qua e poi posso andare avanti tranquillamente perché questo è ordo e devo trebbiarlo adesso, sì, poi si vedrà come novità, non c'è nulla a parte questo ma non i soldi, come animali, questo è ancora presto per sistemarle, perfetto abbiamo i liquami in eccesso però, i liquami in eccesso potrei anche avere una bella idea vediamo se questi liquami diciamo che non è che servano a me, più di tanto, vabbè, visto che comunque qua il ph, l'azotto è perfetto, mh, azotto scarso, allora facciamo così, proviamo una cosa che è da una vita che non faccio, noleggia non, vabbè, 5 mila euro ci sta, la proviamo, il fend, eccolo qua, andiamo al negozio e prendo tutto, allora, innanzitutto dovrebbe caricarsi da qua, vero, sì, molto bene, abbiamo 200 mila litri, a questo punto, voglio capire una cosa, intanto come funziona e poi, e poi me la vedo io un attimo, nel senso che ho già in mente come fare per il trasporto di, per non fare avanti indietro, ecco, diciamo, dovrei avere quella botte la, in teoria, adatta a questo, a questo sviluppo, diciamo, quella lì, per cui, in teoria dovremmo fare travaso, dovrei riuscirci, in qualche modo, già qua dovremmo esserci, vero, secondo me, esatto, fammi capire se il courseplay la accetta, beh, possiamo andare anche a velocità adeguate, eh, bene, molto bene, eh, sì, ora devo solo capire, se posso fare tutto così, anzi, facciamo così, in teoria dovrebbe ricaricarsi, per cui ne carico un pochino, ah, c'è acqua qua, vabbè, eh, c'è acqua, c'è acqua, come facciamo a scaricarla? Allora, ne carico pochini, perché voglio capire se posso fare questa, diciamo, magheggio, nel senso che questa tiene una botte, diciamo, da trasporto, molto borderline, perché tiene 200.000 litri, capite che non serve più fare avanti e indietro, no, veramente carino, così, allora, vediamo un attimo se finisce il liquame, oppure, eh, quanto ne abbiamo? 2000 erotti, eh, non sta neanche andando giù tanto velocemente, comunque, eh, ma ci sta molto bene questa lavorazione qua, in teoria dovrebbe anche fermarsi, esatto, vedete, eccellente, ok, ha bisogno di essere caricato, lui si è chiuso e noi ci avviciniamo, io voglio capire se va in automatico, in teoria no, devo salire io, però, se io mi avvicino, esatto, perfetto, ovvio che adesso lui non riparte, però, io in questo modo vado a ricaricarmi a casa e non devo più muovermi da lì, dal terreno, è una buona cosa questa, ottimo, ottimo, naturalmente, l'uso di questi liquami, così, è la prima volta che lo faccio, da quando è uscito farming, benissimo, e resta lì un attimo, e anche questo lo scarichiamo, vorrei capire perché ha lasciato da quel pezzo, anche perché forse non l'avevo fatto partire dal primo punto, e forse non ci basta tutto, no, si ferma già, sì, 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 si ferma già, sì, vabbè, non importa, va ben così, allora, vediamo un attimo se riesco a recuperare un po' quelle parti lì, e lo ripiazziamo dove era, perfetto, eh sì, qua possiamo andare, eccellente, perfetto, dovrò trovare un'agevolazione per la paglia, che per il momento non ho, non ho una trebbia, non ho, sì, stavo dicendo, non ho l'imballatrice, sì, invece, sì, ce l'ho, per cui dobbiamo sbrigarci, volevo capire, di trattori grandi abbiamo solo questo, questo non sa fare niente, perché questi 350 cavalli io non li ho capiti, non, io non li vedo, nel senso, questo trattoratore qua non ce li ha, secondo me tracendo i rotti cavalli, perché non tira, allora, dovrebbe poter caricarmi il percorso della trebbia, da qua, fatalità, giusto, sì, giusto, giusto, allora, questo ha finito, mi sposto qua, proviamoci, vediamo che succede, qua, non dà valore, perché, sì, c'è un po', beh, intanto andiamo a raccogliere, dove sta andando quello? ha lasciato il percorso e si è fermato, vabbè, pazzo, 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 veramente, allora, voglio provare qua, qua, anche qua, ha bisogno, vero? sì, perfetto, l'operaio classico, funziona bene o funziona male? no, funziona anche bene, vabbè, poi me la vedo io, dove ha lasciato il tutto, il problema è questo, che è impazzito, vabbè, me lo faccio io questo, tanto è piccolino, non è un problema così grave, vedo che comunque va a macchie, a zone, anche la fertilizzazione è fatta così, perfetto, anzi, questo ormai lo posso spostare un po' più avanti, ok, molto bene, perfetto, allora, adesso, se riesco ad avvicinarmi, sì, perfetto, e si ricarica, vedete anche, facciamo un percorso qua, allora, qui i balloni stanno andando bene, perché comunque la capacità è molta, per cui ne vengono fuori un paio e mi va anche bene, ottimo qua, allora, come seminatrici abbiamo questa e questa, sì, mi sembra che questa sia stata aggiornata, o sbaglio io e semina tutto, o non semina tutto di questa mappa, ma come seminatrici credo siamo messi bene, non credo sia necessario prendere qualcosa, qua le canne da zucchero vanno più che bene, quattro di sette ha voglia, allora, abbiamo un po' di soldi, debito, no, mappa, stalla per bovini, no, è già questa, sì, la stalla per bovini, e cos'è che mancano? i maiali, però, dov'è la stalla dei maiali? Da quando abbiamo un pascolo anche di qua, comunque, per le mucche? Ammazza, oh, anche di qua, è la prima volta che vedo il pascolo, ah, passano di qua, interessante, interessante, non me lo aspettavo questo, eh, bello il pascolone enorme, ma la stalla dei maiali dov'è? Così per sapere, perché se abbiamo tutto qua, in teoria, da quella che parte dovrebbe esserci, stalla, stalla, pre, stalla, non so, mi dà la sensazione che mi manchi qualcosa, a parte che adesso mi fa comprare la zona, ok, forse adesso è apparsa che ho comprato tutta la zona, ma no, qua neppure? No. Ok, qua ormai ci siamo, qua deve essere ricaricato, vai, eh, fermo da un bel po', però, eh, perché, peccato che non parta subito, e peccato che non sia come il courseplay vecchio, dove tu facevi il percorso per la ricarica, e si arrangiava, comunque c'è bisogno di un trattore, di trattori più potenti, perché qua siamo messi male, e questo sarebbe bello, però, se stiamo parlando di 210 mila euro, che per il momento non ho, a meno che non possa vendere qualcosa, avevamo detto i semi di soia a luglio, e non sono ancora stati venduti, bene, ce li siamo giocati male, allora, storzo qua, io lo scarico qua, perché non vorrei intasare troppo il sillio principale, allora gli ho porto lì il carrello, dovrebbe vederlo, ormai dovremmo esserci, eh, comunque ne abbiamo, è andato giù, comunque è il liquame, alla fine, perché non ti piace? What? Che problema c'è? perfetto, ah, va bene, novità queste comunque, allora qua ne è uscito due balloncini, intanto, per far qualcosa, allora l'avena, l'avena, l'avena si può seminare anche più avanti, eh, io direi di andare, no, andiamo poi a settembre, così mi semino un po' di cose, eh, le patate non ce le ho, per cui posso schippare direttamente a settembre, sì, anche per il sorgo, sì, sì. Allora, credo che qua finirà, per cui con questo andiamo in farm, tanto, non mi serve più, altri terreni, per il momento, li lasciamo stare, poi, visto che questo non mi serve più per l'acqua, lo lasciamo qua, così, nel caso fosse, un po' troppo pieno, eccellente, ok, questo ha finito, e posso scaricare qua, così, non è un problema, allora, vorrei, fare come prima, caricare questo, tanto facciamo due balloncini, allora, anche qui, lavoretto finito, nulla di così, catastrofico, molto bene, sì, 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 questa, la tengo, la restituisco, la compro, non è cattiva, non è malvacia, non so quanto costa, allora, vediamo un attimo quanto può costare, 113, non lo so, per il momento la restituisco, e poi ci penserò, allora, qua c'è un piccolo, intoppo strategico, allora, let's go, ho finito, posso già andare avanti, in teoria, senza, creare fastidi, sì, vero, andiamo avanti un po', un attimo con calma, fino a che, finché non finisco qua, poi, vorrei trovare una soluzione, magari per qualche vendita, vabbè, questo ha perso il lume della ragione, ti credo che ti sei fermato, però, non so se le mucche, no, le mucche, gli animali, totale razione mista, spazio esaurito, vabbè, non mi interessa, gli animali stanno bene, sì, credo che riusciamo a tirare, un paio di ore, qua, non c'è, a parte questa, carina, qua, vabbè, non importa, 71, ah, abbiamo, sì, le patate, invece, caspita, però, vedo che si possono raccogliere, eh, io avevo detto, non avevo le patate, invece, che c'ho, che c'ho a patate, che ce le ho, ce le ho, è certo che ce le ho, però anche le patate possono raccoglierle nel mese prossimo, allora, qua non c'è niente, posso andare avanti? No, perché ormai qua sta finendo tutto, le mucche, vabbè, qua va avanti bene, e allora facciamo così, fammi andare in farm, scarico e carico, eh, la razione mista, in un tempo lo lasciamo scorrere, eh, bella trebbiolina, vediamo cosa c'è di buono, sì, non so, sì, in teoria ci sta tutta, sì, dopo qua, sì, 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 ci sta tutta, allora, per non tenere, allora, io credo che le mucche vadano vendute al 100%, quando fanno pubertà, 100%, e dovrebbero essere i 18 mesi, come mi aveva detto, come mi ha detto uno di voi, lì, allora, qua chiudiamo, ci togliamo dalle schede, ottimo, forse è meglio che porti, fie e paglia, perché mi segnava che mancava della paglia lì, se no non mi produce più razione mista, comunque io credo che tra un po' mi fermo qui, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, come sempre, le solite raccomandazioni, iscrivetevi, è gratuito, vi costa solo un paio di secondi, fate un grosso favore a me e al canale, lasciate un bel pollicione su, che andate avanti qui, mi piace, quello gratuito, non vi costa un paio di secondi, un commentino, come sempre, un leggero saluto, un ringraziamento, va in particolare a chi lascia un commento, perché fa un grosso favore a me e al canale, e ci aiutiamo un po' tutti ad andare avanti, condividete, giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio, volevo un attimo buttare un ballone qua di, fieno, sì sì c'è tutto, non capisco perché mi segna, che abbiamo le uova piene, quando qua non è vero, perché questa è vuota, no niente, non c'è niente, non c'è niente di niente, allora adesso possiamo sia seminare che coltivare, qua siamo a posto, qua non mi interessa, niente le uova sono sempre borderline, ma queste uova quando è che posso venderle, 3002 a novembre, le produzioni ci siamo, non mi interessano, qua siamo tutto online, molto bene, e niente, finiamo di trebbiare, sì adesso gli dico play, ah no mi prende un play sbagliato, perfetto, questo ha finito poi lo porto a casa io, e noi ci portiamo questo, dove necessita, ammazza abbiamo anche un bel po' di letame da spargere, volendo eh, anche quello è un bel lavoro da fare, molto bene, questo glielo lasciamo qua, così se ha bisogno di scaricare, si scarica tutto quello che vuole, bene, io credo che per il momento mi fermo qui, vi ringrazio per essere qui in mia compagnia, vi do appuntamento al prossimo gameplay, ciao a tutti, grazie e alla prossima, ciao ciao!